In diretta adesso andiamo nella sede dell'ente carnevalesca per seguire con la nostra Simona Zonghetti l'estrazione del fortunato socio che avrà diritto poi ad andare su uno dei carri allegorici a fare il getto, il lancio dei dolciumi. A te Simona. Grazie Marco, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Siamo pronti come detto tu per questa terza estrazione ma prima vorrei darvi un aggiornamento perché anche quest'anno l'ente carnevalesca ha raggiunto la quota dei mille soci. Presidente, un grandissimo successo visto che ancora la manifestazione deve cominciare ufficialmente. Ma al di là della manifestazione dico che in 40 giorni abbiamo già superato i mille soci e quindi cari amici fanesi datevi da fare perché se arriviamo a 1200 anche se sarà fuori programma prima dell'ultima sfilata di carnevale estraremo il quarto fortunato che andrà a fare il getto sui nostri carri. Quindi mi raccomando diamoci da fare per arrivare a 1200 e così superiamo il 2015 in poco più di due mesi. Ecco ma è partita la grande anche la premendita dei biglietti per poter salire sui palchi e sedersi sulle poltroncine. Mai successo prima di oggi, vi aggiorno, proprio questa sera abbiamo chiuso alle 7 e mezza, per il 31 i palchi sono esauriti, per domenica prossima ne abbiamo una quindicina e per l'ultima domenica una decina. Datevi da fare, mi raccomando, non aspettate all'ultimo. Sono ancora disponibili le poltroncine che sapete parte la promozione soci, 3 per 2. Pagate due poltroncine e ne ricevete 3. Solo ed esclusivamente qui in Carnevalesca dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 2. Riservato a tutti voi i soci, mi raccomando. Bene Presidente, poi magari dopo continuiamo con qualche aggiornamento, qualche novità, anche se la maggior parte sono già state annunciate. Questa sera a chi facciamo estrarre? Manca anche il notaio? Beh questa sera ci manca a Dario Colangeli il nostro notaio, giustificato, giustificato, perché sabato si sposa e allora attraverso Fano TV a Dario e Mara, tutti noi della Carnevalesca gli vogliamo fare tanti tanti auguri e so anche che però ci vediamo domenica in piazza. Auguri. Bene, chi lo sostituisce questa sera? Allora stasera abbiamo il vice sindaco Marchegiani, la nostra consigliera Sonia Mariotti e ci sta raggiungendo, appena entrato dalla porta, il nostro sindaco. Ecco prego sindaco, ben arrivato, ci ha raggiunto il primo cittadino della città di Fano. Ecco proprio oggi lei ha firmato un'ordinanza con la quale anche quest'anno vieta l'utilizzo degli ombrelli ma anche delle bombolette spray. Sì, lo scorso anno è stata una intuizione felice e devo dire anche molto seguita e apprezzata. Quest'anno l'abbiamo rinnovata anche perché il Carnevale colori e onestamente il prendigetto sono molto più belli che vedere gli ombrelli rivolti verso l'alto. E fra l'altro è anche una bella iniziativa perché uno si tiene un oggetto ricordo del Carnevale di Fano e nello stesso tempo poi fa anche un aiuto di solidarietà. Quindi è una bella iniziativa e spero che i fanesi e i turisti che verranno le sfilate di Carnevale rispettino l'ordinanza. Bene, grazie sindaco. Le chiedo di andare in postazione, vorrei fare l'ultima battuta con l'assessore Stefano Marchegiani e poi procederemo con l'estrazione perché il Carnevale è anche cultura, non solo divertimento. Il canale è anche cultura, c'è una magnifica serie di rappresentazioni collaterali a cominciare da venerdì 22 con la presentazione per il ciclo dei maestri carristi di un libro su Enzo Bonetti che ne celebra il centenario della nascita. Poi una bellissima mostra sulle maschere del Carnevale di Fano, sempre al Teatro della Fortuna. E poi, cito solo questo, nel programma fornitissimo lo troverete, il palio degli uomini ignudi che è la novità di apertura di quest'anno per sabato 23. Quindi direi che c'è una serie di sorprese, poi le Wings, poi il Veglione, poi tanti concerti e quindi devo dire un'offerta molto ricca. Benissimo, la ringrazio. Chiedo anche a lei di andare in postazione. Presidente, possiamo cominciare? Io direi che prima di cominciare devo ringraziare Rosi e Basilio Canestari di Camminate per averci regalato le salsicce e i salami che abbiamo consegnato ai nostri soci. Detto questo, signori e signori, vediamo chi sale sul getto. Bene, cominciamo a girare con il sindaco e l'assessore che questa sera partecipano all'estrazione. Le aprono. Bene, una a testa. Signori, queste sono le unità, quelle sono le decine, quelle sono le centinaia. Il socio fortunato è il 921, il 129, 129, 129, che è di... Signori della segreteria, veloci, grazie. Beh, come sempre, anche come è successo le scorse volte, possiamo subito dire chi è il fortunato. E la signora, finalmente è una donna, Omiccioli Rossella, con la tessera numero 129. Ripeto, Omiccioli Rossella, ti aspettiamo qua alla Carnevalesca, con la tessera 129, per prendere accordi per il tuo getto. Bene, grazie Presidente e grazie a tutti voi per aver partecipato a questa terza estrazione. Da lente Carnevalesca è tutto, Marco, ti è la linea. Bene, grazie Simona Zonghetti, grazie anche ai tuoi ospiti.